ciao famiglia buonasera a tutti siamo qua di nuovo in ascolto della parola del vangelo di domenica prossima seconda domenica di quaresima lo facciamo subito entriamo nel pieno di questo momento di preghiera di meditazione nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen dal vangelo secondo marco in quel tempo gesù prese con sé pietro giacomo e giovanni e li condusse su un alto monte in disparte loro soli fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti bianchissime nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche e apparve loro elia con mosè e conversavano con gesù prendendo la parola pietro disse a gesù rabbì è bello per noi essere qui facciamo tre capanne una per te una per mosè e una per elia non sapeva infatti che cosa dire perché erano spaventati venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce questi è il figlio mio l'amato ascoltatelo e improvvisamente guardandosi attorno non videro più nessuno se non gesù solo con loro mentre scendevano dal monte ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti ed essi tennero fra loro la cosa chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti parola del signore lode a te o cristo ecco amici cari già nella seconda domenica di quaresima e la parola di dio la chiesa ci presenta questo meraviglioso episodio della trasfigurazione che tutti gli evangelisti trattano perché deve essere stato un momento particolarmente rilevante della vita di gesù il momento nel quale forse le domande intorno all'umanità di gesù l'accostarsi alla sua umanità realissima che camminava con loro in mezzo a loro si è come incrociata per un attimo con la sua divinità con una manifestazione di luce che fino ad allora non avevano mai visto e che continueranno a domandarsi come sia possibile realizzabile una cosa del genere e la sorpresa sta che una certa risposta sta proprio nell'episodio stesso ma andiamo un po per gradi entriamo dentro questo bellissimo mistero praticamente ci stiamo avvicinando al cuore della storia della salvezza si tratta di un evento fondamentale che coincide un po con il momento nel quale avviene un viraggio un viraggio cruciale e scusate la parola cruciale qui non è fuori di luogo un viraggio tra la consapevolezza di gesù di una missione di annuncio del regno e la consapevolezza di un epilogo probabile se non certo e in quel momento diventerà certo ovvero quello della morte in croce cioè il fatto che come gesù aveva già presentito l'annuncio del regno e non era senza conseguenze presso gli uomini ma doveva essere una pietra d'inciampo una pietra di scandalo per tutti coloro che desideravano porre loro una pietra miliare nella storia della religione e nella storia dell'umanità attraverso un ragionamento fatto di carne costruendo templi costruendo un regno umano con attorno un esercito in difesa di certe idee ecco e di certi di certi modi di giudicare ecco gesù e diventa appunto rispetto ad un muro che sergeva grazie alla monumentalità dei precetti religiosi diventa un po il singolo sasso la singola pietra d'inciampo la chiave di volta una cosa piccola che però rotolando come nel libro del profeta daniele lentamente distrugge i regni terreni e ne svela soprattutto la loro interiore inconsistenza e la loro pochezza la pochezza della del cuore umano quindi gesù in questo momento la sua consapevolezza coincide con la fine che dovrà patire ed è di questo di cui con con gran certezza parla non è questione di gloria è questione di gloria di dio sì ma riversata nelle vicende umane delle quali dialoga con mosè ed elia che rappresentano la legge e i profeti dunque i grandi capisaldi dell'antica tradizione di israele ma lui ne rappresenta il superamento il superamento ma anche l'incarnazione la pienezza ecco gesù potrebbe in tutto questo sembrare il protagonista ma ancora una volta come in altri episodi evangelici gesù si sottrae a questo protagonismo innanzitutto con un attraverso anche il ricordo chiaro e nitido dell'evangelista gesù compie tutto questo che stiamo ascoltando in grande segretezza non davanti all'intero gruppo dei discepoli e neanche tanto meno in mezzo alla gente ma solamente chiamando a sé alcuni di loro e questi tra loro pietro giacomo e giovanni vengono condotti in un luogo appartato su un alto monte e su questo monte come dice l'evangelista in disparte loro partecipano ma anche non partecipano cioè guardano ma non vedono bene quello che sta succedendo e osservano ma non comprendono e nonostante tutto intuiscono la bellezza del momento perché la parola che campeggia forte in questo testo è certo l'espressione entusiasta di pietro è bello per noi essere qui c'è una bellezza che pietro vorrebbe custodire a tutti a tutti i costi facendo tre capanne una per te una per musea una per elia noi ci accontentiamo di stare qui a guardare e di gioire di questa bellezza ma questa bellezza non può essere raccolta in manufatti d'uomo è una bellezza che deve raggiungere e deve produrre la sua certezza e la sua fedeltà all'interno delle vicende umane quindi non in disparte ma nella folla umana non sul monte ma nella città a valle non in un anticipo permanente di resurrezione ma attraverso il passaggio nella passione nella croce nel golgota appunto nel momento più tragico della morte ecco pietro raccoglie questo meraviglioso invito e cercherà di comprenderlo in tutto il suo percorso fino a quando con la pentecoste capirà effettivamente quello che è successo ma gesù non è il protagonista ci dicevamo è l'apparente protagonista se volete ma in realtà attraverso questa forma di nascondimento attraverso il segreto messianico cioè l'invito a non rivelare quello che avevano visto mentre stanno tornando giù dal monte e ci dice qualche cosa di come il protagonista effettivo il regista di tutto questo sia il padre il padre che proferisce una parola dice una parola ed è una parola molto semplice questo è il figlio mio l'amato ascoltatelo in questo c'è tutto l'amore del padre l'invito e l'esortazione forte ad ascoltare come nell'antico popolo di israele perché tante sono le immagini e le parole che contestano letterariamente questo testo che ha tutto il sapore della rivelazione della della teofania dell'antico testamento e oltretutto ci parla di una figliolanza questo è il mio figlio questo è mio figlio è lui l'eletto ma lui ha l'elezione perché io sono suo padre quindi emerge in questo testo in questo brano e la protagonista se volete è prima ancora del figlio del padre è la relazione tra di loro e grazie a questo che gesù è rivelato ed è indicato e grazie a questo che gesù affronterà poi il cammino della passione che ci apprestiamo a percorrere in queste ultime settimane di quaresima fino alla settimana santa e ancora durante la settimana santa e poi nel trito pasquale e elie e mosè saranno appunto gli spettatori increduli di quello che sta avvenendo perché anche per loro che sono parte del dio vivente del dio dei vivi elie e mosè staranno ad osservare quello che il padre compie attraverso suo figlio dopo l'incarnazione ciò che compie è un progetto di amore e dentro questo progetto di amore è incluso il dinamismo la meraviglia della trasfigurazione che provoca bellezza ecco questo è io credo uno dei grandi messaggi meravigliosi di questo e di questa domenica che ci attende il messaggio che può essere scritto in questo modo l'amore trasfigura allora sì che la bellezza è inclusa all'interno di un progetto di trasfigurazione ditemi voi se non è così quando sperimentato l'amore anche per due adolescenti o due giovani o una due sposini o una moglie o un marito dopo tanti tanti anni di matrimonio in presenza un'assenza del coniuge ditemi voi se l'amore perenne vivo non causa una trasfigurazione e ancora attraverso l'amore di un religioso di una religiosa che ricevono da gesù nel momento in cui hanno dato la loro vita al signore ditemi voi se questo amore quando è autentico non provoca questa trasfigurazione e quasi introduce bellezza in tutto ciò che la persona compie e fa a partire dalle semplici scelte di vita dalla gestualità anche dalla sua presenza poco presentabile se volete attraverso categorie puramente estetiche è una bellezza morale una bellezza integrale come spesso dico ai giovani per non fissarsi troppo sulla bellezza estetica e per chi teme forse di cadere ossessivamente nelle manie di cura della propria figura esterna della propria immagine la trasfigurazione è un atto d'amore perfetto tra gesù e il padre e produce una bellezza che è impossibile da non vedere impossibile ma la cosa in più che dobbiamo ammettere e riconoscere è questa bellezza è intuibile ma non si può catturare è ciò che ci accade dinanzi all'opera d'arte la intuiamo la vediamo la respiriamo per un attimo su dieci respiri uno di questi respiri è statico di fronte alla bellezza ma poi gli altri perdono quella capacità di pienezza nella quale siamo stati letteralmente rapiti l'amore trasfigura gli amanti questo è del cantico dei cantici e dell'esperienza umana è del cantico spirituale di san giovani della croce l'amore trasfigura gli amanti a tal punto che questa trasfigurazione in tutta la sua bellezza permette l'offerta di sé rende comprensibile e ragionevole il sacrificio la perdita di sé l'oblio di sé dunque oggi ascoltando la parola di dio vediamo che gesù viene trasfigurato perché il padre lo ama lo riconosce come figlio lo pone al centro e lo indica come colui che è da ascoltare in una parola molto umana permettetemi lo coccola lo coccola a tal punto che questo è luce ed è nascita di un grande desiderio di essere coccolati per tutti gli uomini se l'amore del padre procede verso il figlio ma quanto più il padre anche amerà noi poveracci vittime del del limite del peccato noi incapaci di uscire a mani nude di lottare con il peccato abbiamo bisogno di qualcuno che ci salvi teneramente ci raccolga ci avvolga ci includa all'interno di un progetto d'amore abbiamo bisogno di essere inclusi cioè di entrare una volta da un grembo materno di entrare in un grembo più grande ancora più liberante fuori da ogni logica di schiavitù chi ama viene trasfigurato si trasfigura trasfigura al suo intorno e potremmo dire non c'è bisogno di credo citare troppi santi anche la croce si trasfigura anche il martirio terribile audace se volete ma non eroico il martirio come consiglia della propria vita ai flagellatori ai tuoi uccisori ai tuoi carnefici in ogni momento della storia umana diventa occasione di trasfigurazione ecco questo mistero della trasfigurazione quindi è intimamente connesso alla croce l'esperienza che vivremo ma è intimamente connesso alla esperienza della bellezza di questo episodio e all'amore che ci investe e ci rende capaci di sacrificio senza amore non c'è logica di sacrificio ma solo conservazione di sé possibilmente e amore a se stessi e un progetto egoistico di conservazione di sé il più possibile non c'è che l'amore che ti lancia verso mete inarrivabili e impensabili secondo le logiche e le forze umane ma questa questo mistero che abbiamo ascoltato io vorrei lasciare un'esperienza stasera un'esperienza molto bella di cui sono stato testimone ieri andando a trovare una famiglia una una bimba giovanissima di poco più di dieci anni mi racconta di una sorta di immaginazione un sogno ad occhi aperti le ho detto di raccontarmelo nuovamente per messaggio perché gli ho detto che volevo che tutti lo poteste ascoltare è la voce semplice audace dei bambini fatta di fantasia e fatta di immagini meravigliose che però parla di un di qualche cosa di cui abbiamo bisogno abbiamo bisogno di essere coccolati dal padre e quindi trasfigurati e resi capaci di progetti nuovi e audaci e tutto questo avviene attraverso un abbraccio del padre e questo abbraccio per immagine avviene in un modo assolutamente spettacolare e imprevedibile che vi invito ad ascoltare con attenzione la bimba si chiama Sara mi piace potervelo dire e l'ascoltiamo orecchie e cuore aperto e poi vi do la benedizione ecco come scacciare via le vostre paure raccontandomi una storia un giorno nel prato avevo deciso di fare delle bolle di sapone così perché mi diverso tanto fare le bolle di sapone ne faccio così tante che poi me ne accorgo di una ma non è come le altre è molto diversa è proprio interamente blu di solito le bollecine hanno delle sfumature viola oppure azzurre invece questo è precisamente blu e cosa faccio allora prendo mi incuriosisco un po allora prendo una specie di macchina di rimpicciolamento mi metto dentro e mi rimpiccioliscono questa bolla all'improvviso la vedo scendere da me e mi domando un po' come mai scende da me allora cosa faccio entro in questa bolla e mi ritrovo in un mondo parallelo in un mondo dove le paure non esistono più quella bolla abbiamo scoperto che era gesù gesù è una bolla che ci protegge che non ci fa mai avere paura anche nei momenti più bui ci fa sempre rimanere felici e senza paura questa era la storia della bollicina blu carissimi amici affidiamoci dopo questa meravigliosa storia alla protezione della vergine maria che ci accompagni per vivere questa nuova settimana di quaresima ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto al frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen il signore sia con voi vi benedica protegga e accompagni di ogni potente che è padre figlio e spirito santo amen